Quello che è interessante è come effettivamente in tutta la storia del pensiero, ma in realtà a partire effettivamente dall'antichità, si sia cercato di spiegare il rapporto, in realtà la differenza tra fisica e metafisica, in particolar modo tuttavia come all'inizio, soprattutto all'interno dell'antica Grecia, in degli antichi, cioè ai primordi dell'antichità, la fisica fosse fondamentalmente concepita come metafisica, cioè si volesse comunque sia far diventare la fisica metafisica e quindi ciò che accade all'interno effettivamente del fenomeno umano non è nient'altro che una causa di ciò che per esempio vogliono le divinità. Questo è importante perché per esempio nell'approccio antropologico che dà anche Fraser, cosa che dice Fraser? Fraser dice che le società antiche hanno sempre cercato per esempio di dare una disamina critica rispetto a ciò che vedevano, fare delle valutazioni sulla base per esempio di rapporti con la divinità. E questo è importante perché Fraser per esempio all'interno appunto della sua struttura antropologico-filosofica fa una divisione, cioè dice le società arcaiche sono partite con la magia, poi si sono affidate alla religione e infine piano piano le società si sono evolute e evolute e si è sviluppata la scienza. E questo in realtà noi lo vediamo già dall'antichità, infatti per esempio noi vediamo nell'antica Grecia, cioè proprio ancora prima dell'età arcaica antica, ancora prima del VI secolo a.C. per esempio, che Omero sviluppa dei poemi, quindi un'epica, dei poemi che si basano su un'epica, di stampo anche divino. Cioè per esempio in Omero la guerra di Troia vede la partecipazione delle divinità e le divinità comunque impattano sulla guerra di Troia. Pensiamo per esempio ad Apollo che scocca le sue frecce contro gli Achei, pensiamo effettivamente anche all'Odissea, pensiamo a Poseidone che impatta sulla vita di Ulisse perché egli ha cercato il figlio Polifemo. Quindi in questo tipo di strutture ecco noi vediamo che le cose accadono perché anche le divinità partecipano. Quindi io mi spiego anche gli eventi di stampo naturale o di stampo anche politico militare sulla base di ciò che le divinità o il destino vogliono. Come ad esempio qual è il mito che poi ha deciso la guerra di Troia? Quel mito tramite cui in realtà Paride decise che la donna più bella era Afrodite rispetto ad Era e ad Atena sulla base del fatto che Afrodite gli aveva fatto una promessa che a lui piacque di più che era quella tale per cui la promessa era che Afrodite gli promise se lui avesse scelto lei come la dea più bella la donna più bella. Paride scelse lei come la migliore e appunto lui ebbe la donna più bella e questo comunque ce la dice lunga rispetto effettivamente a questo tipo di tema cioè della mitologia come impattante nella vita politica. Lo stesso Esiodo evidentemente riprende questo tipo di dinamica e cos'è che fa Esiodo? Per esempio spiega come gli eventi naturali appartengano in primis a tre divinità principali che sono Zeus, Posidone e Ade, Zeus, cielo, Ade, mare, Posidone, sottosuolo, inferi e oltretutto queste divinità hanno preso il potere grazie al fatto che sono riuscite in particolar modo grazie a Zeus a abbattere Crono. E attenzione il mito cioè la profezia che disse che Crono sarebbe stato divirato si compì all'interno di questo tipo di mitologia e infatti Crono non riuscì a ingoiare Zeus perché Rea non gli diede Zeus ma gli diede un sasso e Zeus crebbe e riuscì poi a sconfiggere il padre. Nella Titanomachia anche che è tutto il filone Esiodeo che viene spiegato e quindi da un certo punto di vista noi capiamo quindi che gli eventi naturali, le piogge, i maremoti, le onde alte eccetera, le tempeste, Ulisse, l'Odissea, sono un prodotto nient'altro che delle azioni delle divinità. E in certo modo anche attenzione del destino della vita che si regge attraverso le azioni delle parche che sono Cloto, Lachese e Atropo. E quindi qui rientriamo comunque nell'interpretazione di Fraser. Infatti Fraser dice in questo senso gli antichi cercano di far diventare la fisica come metafisica cioè cercano di dare spiegazioni di stampo fisico, filosofico naturale, fisico matematico a cose che in realtà loro spiegano attraverso la mitologia. Quindi c'è proprio un passaggio tramite cui a me non interessa la matematica, la fisica, la vera astronomia così com'è, ma uso la mitologia per spiegare di fatto secondo me come gli eventi accadono. E inserisco le divinità come per esempio Zeus e Poseidone all'interno degli enti naturali per spiegare che sono loro che compiono gli eventi naturali, non già per esempio un comportamento fisico che magari si può basare su un rapporto e un principio di causa e di effetto tramite cui se c'è una causa allora naturalmente ne deriva un effetto. No, la causa e l'effetto sono sempre di ambito metafisico impattate poi all'interno della realtà e se vuoi naturalmente talvolta anche svincolate dal punto di vista politico umano ma sempre in rapporto con la divinità. Tuttavia a un certo punto noi vediamo che questo tipo di metodologia di riferimento comincia effettivamente a poco a poco a venire meno. Ma quando effettivamente? Soprattutto nel sesto secolo avanti Cristo. Perché? Perché effettivamente nel sesto secolo avanti Cristo cominciano ad arrivare, ma anche un po' prima, però appunto in particolar modo poi nel sesto secolo avanti Cristo cominciano ad arrivare questi filosofi di stampo più naturalista. Cioè filosofi naturali come Talete, Anassimene, che si cominciano a chiedere evidentemente che cosa dia la causa e l'effetto e le loro risposte sulla base delle loro questioni sono interessanti. Cioè per Talete per esempio esiste un archè, cioè un principio della vita tramite cui dalla causa ne deriva un effetto. Quindi tramite l'acqua per esempio per Talete che dà la vita c'è vita. Ecco quindi che per Talete per esempio non si parla tanto di divinità, ma si parla di acqua. Cioè l'acqua sì può essere una divinità se così vogliamo dire, ma l'acqua è un principio che vediamo e tramite cui noi possiamo per esempio postulare una possibile vita. Anassimene per esempio teorizzo all'aria, Eraclito teorizzo al fuoco, ma ci sono comunque delle teorizzazioni che cominciano a distaccarsi dall'idea di stampo mitologico che poi impatta nella politica. E se effettivamente ci facciamo caso, non è un caso appunto che in verità nello stesso quinto secolo avanti Cristo la polis greca cominciò a fare i conti con se stessa. Cioè se è bene sia vero che la polis greca si distacca da tutto quel filone di filosofia naturale, della filosofia naturalista, per esempio di Talete, di Anassimene, di Anassimandro, eccetera. Noi tuttavia vediamo un'altra cosa. Cioè la polis greca nel quinto secolo comincia a prendere più fiducia in se stessa. Soprattutto noi abbiamo fonti di Atene per ciò che accadde ad Atene, ma quello che è interessante notare è propriamente questo. Cioè che sebbene la divinità fosse sempre importante, sebbene i templi fossero sempre importanti, ci sia effettivamente stato in certo modo un passaggio dalla magia alla religione e poi anche alla dicotomia tra religione e politica. Perché se ci facciamo caso, gli antichi greci piano piano cominciarono a prendere coscienza del fatto che in certo modo tu non puoi costruire un partenone se non hai del denaro per costruirlo. Non è un caso che Pericle per esempio utilizzò i fondi della Lega degli Attica per costruire il partenone. Quindi a un certo punto tu non puoi, come dire, fare una guerra se non hai un esercito per fare la guerra. Hai voglia a chiedere alla divinità di fare la guerra e tu non puoi difenderti se non hai delle mura per difenderti. Pericle, Tuciride, guarda il Peloponeso, Tuciride dice, Pericle disse di stare dentro le mura agli attinesi. E attenzione, soprattutto tu non puoi fare politica se non propendi per quella che poi da clistene si arrivò ad essere definita isonomia, tale per cui tutti partecipano alla vita politica. E per quanto la divinità impatti e noi andiamo ad Elfi benissimo a chiedere alla divinità come andrà la guerra, tuttavia in verità poi noi prendiamo la decisione politica sulla base dell'isonomia. Non è un caso che le stesse esposizioni anche di stampo militare ma anche di stampo coloniale o anche effettivamente di stampo militare coloniale, pensiamo anche all'esempio di Timoleonte, si fondassero su motivazione di stampo politico. No, Corinto manda Timoleonte a Siracusa per aiutarla a difendersi, però al contempo noi chiediamo alla divinità se effettivamente è giusto che Timoleonte faccia questo tipo di strada per andare a Siracusa o debba praticare quest'altro tipo di strada per arrivare a Siracusa, se effettivamente troverà delle difficoltà all'interno del suo viaggio navale, quali difficoltà troverà, se andrà tutto bene. Noi chiediamo, però noi vogliamo fare questa cosa politica, la facciamo. Quindi vedete, dalla filosofia di stampo naturale si va alla filosofia di stampo politico sempre più incentrato all'interno della polis, che comincia poi a distaccarsi evidentemente dal tema della divinità che impatta, ma la scelta politica è pur sempre intesa come esonomia politica data da un qual certo diritto della polis, che si struttura sulla base di ciò che si vuole fare. Non è un caso, per esempio, che in caso di necessità abbiamo visto con gli antichi greci che lo stesso Leonida, cosa che fece, prese appunto i suoi uomini e andò alle Termopili per limitare l'ingresso dei persiani all'interno della Grecia, per permettere, per esempio, anche agli attenesi di smobilitare l'Atene. Vedete, sono tutte situazioni di stampo politico, che va bene, che si basano anche sulla divinità e che, se vuoi, si basano anche sul consiglio della divinità, ma che anche hanno, dalla loro parte, movimenti di stampo politico, militare, di riferimento e anche modalità di tipo ingegnoso. Cioè, come vogliamo noi effettivamente difenderci? Oppure, come vogliamo noi effettivamente applicare la politica, cosicché i persiani ci prepariamo, Liga degli Oattica, magari in caso tornino, come vogliamo noi prepararci sulla base di specifici accordi per creare un tipo di alleanza, come vogliamo noi commerciare? Vedete, sono tutte implicazioni che, per quanto la divinità rientri, in realtà tendono ad essere sempre più umane, sempre più specificatamente umane. E, tra l'altro, c'è un'altra cosa da dire. Cioè, a un certo punto, quando effettivamente poi noi prendiamo il rapporto tra il tema anche astronomico, non il tema della divinità, e facciamo caso anche al periodo in cui comunque la polis cominciò a venire meno, noi vediamo che c'è una filosofia di stampo naturale che vuole essere più scientifica. Cioè, se prima bastava dire che c'è il destino, che fa sì che le cose siano, che le cose si muovono in un certo modo, poi, in realtà, chi fu davvero il primo tecnico scienziato per l'epoca a provare a definire una modalità compiuta di tipo astronomico, oltre Platone, ma cercando proprio di dare un apporto sistematico? Ma è Aristotele. Infatti, cosa fece Aristotele? Aristotele, diciamo che fu il primo vero astronomo, in senso della cosmologia del tempo. Cioè, Aristotele non solo, cioè, si distaccò totalmente dal tema magico, in senso di Fraser della divinità, accettiamo così come stanno le cose, no, Aristotele provò a fare un attimo due più due, cominciò attraverso l'osservazione a vedere come potevano essere gli astri, andare gli astri, e a fare effettivamente delle valutazioni e a provare a creare un sistema di stampo cosmologico. Certo, il sistema di Aristotele, quello geocentrico, è sbagliato, lo sappiamo tutti. Però, lui fu il primo reale scienziato, o comunque uno dei primissimi, a creare quel tipo di struttura compiuta, secondo il suo tipo di sistema, che si basò comunque su osservazioni e, per certi versi, anche tipi di calcoli che per lui andavano, per l'epoca, andavano bene. E quindi, in tal senso, Aristotele, per esempio, cosa che fece? Beh, Aristotele, per esempio, teorizzò un sistema, teorizzò un sistema di stampo effettivamente cosmologico che per l'epoca era anche funzionale da un punto di vista, se vogliamo, filosofico-matematico. E questo, badate bene, è interessantissimo perché in Aristotele, per quanto il sistema geocentrico sia sbagliato, in realtà si ritrova il fatto che lui non è che si affidò al volo degli uccelli, alla divinità, eccetera, provò ad affidarsi alla sua testa, a quello che lui ricavava dai suoi studi, che, per quanto fossero effettivamente filosofico-concettuali con tutte le limitatezze del caso, in verità provarono a verificare un tipo di struttura. E, da un certo punto di vista, per quanto appunto Aristotele, da un punto di vista proprio tecnico, il suo sistema è sbagliato, beh, per esempio, lui teorizzò la Terra sferica. Questo è interessante, cioè, lo stesso Aristotele teorizza un sistema geocentrico basato sulle sfere, sulle sfere celesti, certo. Ora Aristotele, attraverso l'osservazione, sbagliò perché cosa che disse? Ecco, lui, per esempio, si riferì, e qui è interessantissimo, cioè lui disse, no, non è che ce l'ha divinta, eccetera, c'è la teoria dei luoghi naturali. Cioè Aristotele dice, io vedo la Terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, ma com'è possibile che siano qua sul nostro pianeta? Beh, allora, appunto, dice lo Staggirita, Aristotele, che è nato appunto Staggirita, Staggirita, disse, beh, ci sarà una teoria dei luoghi naturali tale per cui ci sono quattro elementi, terra, acqua, fuoco e aria, che saranno, sono sul nostro pianeta. Io li vedo, io li tocco, li sento, cioè ho la percezione empirista in questo senso, pragmatico, e quindi dice, beh, questi quattro elementi, se sono qui, non possono essere altrove, quindi ci sarà solo un luogo dove sono, che è sulla Terra, perché sono qua, li vedo. C'è un quinto elemento, dice Aristotele, il luogo naturale di un altro elemento particolare che si chiama etere, e questo dice Aristotele, in realtà questo fa parte del mondo celeste, anche perché io non lo vedo, cioè è un qualcosa che non posso concepire inteso come atto puro, perché io non posso concepire l'atto puro. E qui, attenzione, da Aristotele, dalla teoria dei luoghi naturali, arriva il rapporto potenza-atto. Cioè Aristotele dice, se io vedo che, per esempio, la teoria dei luoghi naturali mi dice che c'è qualcosa di corruttibile, perché se acqua, terra, fuoco e aria sono nel mondo, e il mondo è corruttibile, vuol dire che c'è qualcosa di incorruttibile, e quindi l'etere farà parte dell'incorruttibilità, perché ci deve essere qualcosa di più corruttibile, di meno corruttibile, fino ad arrivare a ciò che non è per nulla corruttibile. E qui Aristotele sviluppa la sua teoria delle sfere, cioè lui dice, nelle sfere celesti c'è l'etere, e queste sfere celesti non sono corruttibili, almeno non lo sono com'è il piano terreno, fino a poi arrivare al primo motore immobile. Che cos'è il primo motore immobile? Beh, è la causa finale, e in fin dei conti per Aristotele è Dio, e per Aristotele quindi Dio, che è il primo motore immobile, è atto puro, è pensiero di pensiero, è sempre atto, è colui che muove le altre sfere celesti. Quindi all'interno del sistema astronomico-astrologico di Aristotele, noi vediamo che la Terra è ferma, immobile, sferica, al centro dell'universo, con terra, acqua, fuoco e aria entro sé. Quindi il mondo fermo al centro dell'universo immobile con terra, acqua, fuoco e aria. E poi ci sono le sfere celesti che ruotano in modo circolare uniforme, partendo dalla Luna fino al primo motore immobile, e il primo motore immobile dà il movimento a tutti gli altri, a tutte le altre sfere, con la Terra che ferma, queste sfere ruotano attorno ad essa, e quindi noi vediamo che questa struttura celeste, che continua a ruotare attorno alla Terra di moto circolare uniforme, con attenzione, dice Aristotele, il primo motore immobile che è mosso grazie alla causa d'amore, cioè Dio si muove per amore, e fa muovere tutte le altre sfere celesti che si muovono di moto circolare uniforme attorno al mondo. E qui c'è l'etere, c'è perfezione, c'è immutabilità, eccetera, partendo appunto dalla Luna fino al primo motore immobile, il primo motore immobile dà il movimento, e la Terra è lì, ferma, sferica, immobile, al centro. Vedete? Cioè, comunque, per quanto sia un sistema sbagliato, che è un sistema di stampo geocentrico, e tra l'altro, per quanto effettivamente, attenzione, per l'epoca il sistema geocentrico passò, ma già qualcuno aveva teorizzato l'egiocentrismo, i pitagorici, che dissero che in realtà la Terra si muove attorno a un fuoco, e la teoria dei pitagorici, in tal senso, non passò, passò quella aristotelica-tolemaica, e poi Pettolomeo appunto risviluppò il sistema di Aristotele, parlando appunto delle sfere che ruotano attorno alla Terra, ma tant'è, cioè, comunque sia, vedete, l'approccio di Aristotele è comunque logico, è molto logico, che per quanto sia sbagliato dà logicità a un sistema, dà logicità a un sistema per far sì che sia tale, e corrisponda all'essere tale, e poi da lì Aristotele poi muove anche su tutta la sua filosofia, il tema della medietà, il tema dell'etica, il tema dell'azione umana rispetto all'etica, il tema del proprio luogo naturale, quindi dell'azione etica in rapporto alla medietà, da lì poi nasce tutto il sistema anche aristotelico. Ma, e quindi, vedete che, cioè, se voi prendete questo movimento storico, a partire da prima del VI secolo a.C., quindi vediamo Omero e Siodo, che sviluppano un apparato totalmente mitologico, per poi arrivare i filosofi naturalisti, che sviluppano un apparato di stampo del principio della vita, ma di stampo filosofico-matematico, e cercano di rapportarlo alla verità pratica. Poi c'è l'età della Polis, che cerca appunto di fare i conti con, evidentemente, il rapporto tra Polis e religione, cercando appunto di creare una dicotomia tra la politica intesa come scelta politica, e poi la divinità che andiamo, comunque sia, a frequentare, però allo stesso tempo capiamo che c'è qualcosa di un distacco, c'è un distacco. E al contempo, almeno un distacco come scelta. E poi al contempo, vediamo Aristotele. Aristotele, che vive in quel periodo della caduta della Polis, Alessandro Magno, l'avvento effettivamente della Macedonia, che non sono greci, che effettivamente assimilano la Grecia, e le Polis non sono più il centro della Grecia, e Aristotele si trova quindi a dover creare una modalità di scienza che possa basarsi sul visibile, sulla pragmatica. Non è un caso, tra l'altro, che lo stesso Aristotele, in questo senso, arriverà a parlare della moneta. Moneta che, attenzione, era già entrata in campo ben prima di Aristotele, a partire evidentemente già dall'inizio del VI secolo a.C. e poi anche nel V secolo a.C. ma Aristotele, che è del IV secolo a.C., parla del tema della moneta, etica eudemia, etica nicomachea, parla per esempio del tema degli scambi, della scarsità, del fatto che non è che abbiamo tutto ciò che ci serve, e quindi in tal senso la moneta, per esempio, è utile perché? Perché è oggetto che riguarda la scarsità del mondo, che comunque è finito e non è perfetto. Si rifà, da questo punto di vista, quindi il tema, attenzione, della moneta come scambio, come scarsità del reale, come principio anche di cause d'effetto sulla base degli scambi, perché il baratto non è così efficiente all'interno degli scambi, mi permette poi, da questo punto di vista, di collegare la cosmologia al fenomeno pratico. Perché? Perché noi siamo nel mondo imperfetto, siamo nel mondo corruttibile, non siamo nel mondo celeste dove non c'è mai scarsità. Quindi vedete bene, cioè, Aristotele, con la sua cosmologia, con la sua astronomia, crea un distacco e un realismo anche di stampo economico-giuridico. Cioè Aristotele, per quanto abbia sbagliato all'interno del suo sistema a dare geocentrismo, ok? In realtà, e quindi il suo sistema geocentrico sia fallato, perché è sbagliato, in verità, allo stesso tempo, noi ci accorgiamo che Aristotele crea una dicotomia tra i due per dire, guardate che il mondo celeste non ha bisogno di moneta, non ha bisogno di scambi, non ha bisogno, perché è perfetto, è immutabile. Noi nel caso, sì, ne abbiamo bisogno perché siamo imperfetti, per quanto effettivamente la Terra sia una sfera, ma noi siamo imperfetti. Noi non abbiamo il moto circolare uniforme, perché? Perché terra, acqua, fuoco e aria vanno su un rapporto di stampo alto-basso o basso-alto. Questo non è riguardante la perfezione, per quanto la Terra sia sferica, ma alto-basso, basso-alto non va bene. La moneta, e la moneta ci riguarda con l'imperfezione, la moneta ci riguarda col fatto che siamo corruttibili, e da qui poi tutto lo sviluppo medievale si riprenderà da questo punto di vista e partirà anche da qui, sul rapporto tra perfezione e imperfezione. E tutto ciò è comunque molto interessante e dà rilevanza effettivamente a cosa? dà rilevanza al distacco che a un certo punto ci può essere tra scienza e religione. Perché? Perché sebbene sia vero attenzione, il sistema di Aristotele è in verità stato poi accettato per tantissimo tempo, cioè bisognerà aspettare praticamente il quindicesimo sedicesimo secolo con Copernico e Galileo per vedere abbattuto il sistema geocentrico e teorizzare effettivamente l'eleocentrismo che già attenzione era stato teorizzato in modo embrunale dai pitagorici nell'antica Grecia. Infatti bisogna aspettare Copernico per spiegare in verità che la Terra in realtà ruota attorno al Sole non è che sono le sfere che ruotano attorno alla Terra e bisogna aspettare Galileo per specificare per esempio l'imperfezione del mondo celeste intesa come la Luna non è che è piana perfetta eccetera i suoi avvallamenti e quindi bisogna aspettare effettivamente questo periodo storico per dire guardate che effettivamente il mondo celeste di Aristotele almeno così come lui descritto non è effettivamente così perfetto come è descritto e perché? Ma perché la Chiesa prenderà tutto il sistema aristotelico loro interpreterà e da lì creerà anche una coincidenza tra scienza e religione tramite cui a un certo punto non se ne capirà più nulla ragazzi cioè a un certo punto la Chiesa crea un collegamento che per quel periodo storico se vogliamo divenne anche inevitabile perché Aristotele fu riscoperto grazie a Vicenna Verroè nel XII secolo XIII secolo la Chiesa non poteva buttarlo via insieme a Platone lo riscoprì lo reincarnò pensiamo anche autori come Dante in chiave cristiana e gli diede giuridicità a partire dal senso cristiano della cosa e a un certo punto bisogna aspettare Copernico e Galileo ma anche Cheplero che in verità poi criticheranno questo tipo di sistema Copernico parlerà del motocicola uniforme della terra che ruota attorno al sole di moto circolare uniforme per Copernico il sole al centro dell'universo mentre Cheplero per esempio parlerà di moto ellittico cioè orbita ellittica cioè per Copernico per esempio che per Cheplero scusate in critica a Copernico l'orbita dei pianeti attorno al sole è ellittica non è circolare uniforme così come per Cheplero i pianeti più vicini al sole ruotano più velocemente attorno al sole i pianeti più lontani ruotano più lentamente attorno al sole e quindi cominciamo ad arrivare al tema della scienza di Fraser cioè noi ci accorgiamo che Fraser a un certo punto quando sviluppa la sua linea teorica ci dice beh si è passati effettivamente da uno stampo più religioso anche scientifico allo stampo totalmente scientifico dove poi arriva Galilei che ci dice guardate che io posso avere fede e credere in Dio ma posso fare scienza anche credendo in Dio perché perché in realtà non sono in contraddizione dice Galilei la scienza e la fede si occupano solo di due cose diverse cioè la fede si occupa effettivamente la religione si occupa del fatto che io devo avere fede e posso coltivare questa fede attraverso anche le sacche scritture ma al contempo la scienza mi dice che io devo essere pratico e guardate non è che Galilei critichi Aristotele al di là del sistema geocentrico cioè Galilei critica il sistema geocentrico però dice Aristotele in certo modo per quell'epoca lì ha creato un tipo di metodologia logica che per lui andava bene ma per le ricerche che ora esistono e per il modo in cui io ho osservato attraverso il cannocchiale il telescopio e per ciò che l'evidenza mi dice io non posso dare ragione a questo sistema perché è sbagliato cioè scientificamente è sbagliato puoi avere fede ma è sbagliato quindi la fede è una cosa le sacche scritture sono una cosa la scienza è un'altra e non entrano effettivamente in contraddizione secondo Galilei cioè sono distinte e quindi in questo senso la cosa interessante è che poi a un certo punto arrivò Kant cioè Kant fu colui che abbatte definitivamente poi l'ambito metafisico cioè a un certo punto cercando appunto di non far diventare la fisica come metafisica in tutto questo viaggio che appunto riguarda la storia del pensiero tramite cui prima la fisica si faceva diventare metafisica attraverso guarda gli uccelli guarda gli dèi eccetera poi appunto attraverso lo studio naturale il rapporto religione polis eccetera e anche un tipo di metodo astronomico e osservazione che per quanto sbagliata si basava sempre comunque sull'osservazione dell'epoca e poi noi vediamo che a un certo punto Kant nella sua filosofia dice una cosa estremamente per l'epoca anche se vogliamo originale cioè lui disse no la metafisica non è più una scienza cioè non ditemi più che la metafisica è una scienza perché non è una scienza Kant è agnostico lui non è che dica che Dio non esiste ma al contempo non è che dica anche il contrario ma al contempo dice la metafisica non è una scienza e al contempo guardate un po' anche se dice nella critica della John Pura che la metafisica non è degna di essere scienza cioè non è chiaro che sia una scienza allo stesso tempo lui utilizza però la metafisica per giustificare il suo gius naturalismo e giustificare l'imperativo categorico e anche qui è interessante perché perché è interessante come lo stesso Kant poi abbia ripreso anche il tema di Galilei sul tema della fede dicendo che la fede non è in contraddizione con la scienza infatti Kant in certo modo per fare etica ok non per fare scienza cioè per fare etica disse che va bene la scienza non è metafisica metafisica non è scienza ma io per spiegare l'etica ho bisogno dei dio ho bisogno dell'imperativo categorico ho bisogno dell'essere perfetto inconoscibile perché sennò non potrei postulare l'imperativo quindi vedete con Kant le cose cominciano ad essere dicotomiche in modo diverso perché Kant si accorge che va bene da un lato la metafisica come dire non è quella cosa che è la fisica sono due robe diverse la metafisica è inconoscibile e noi non sapremo mai secondo appunto il messaggio kantiano che cos'è però al contempo mi serve per spiegare l'etica e al contempo Kant cerca di definire un'etica pragmatica imperativo categorico della morale basato sul fatto che dobbiamo trovare un'azione che va bene per tutti intesa come giusta però al contempo data da dio e qui è poi la pragmatica kantiana razionalista a cui bisogna poi porre attenzione al troppo razionalismo perché poi bisogna vedere anche le differenze culturali eccetera però lo stesso Kant comincia da questo punto di vista a creare una sorta di linea guida sul fatto che dio va bene mi dà l'imperativo categorico nel senso che mi dà il diritto naturale però io non lo conosco ma l'importante è che io lo postulo perché poi da questo punto di vista io ho l'imperativo categorico io ho la morale e quindi io posso imperativizzare un possibile imperativo anche ipotetico bisogna vedere se poi passa alla ragione della morale pratica cioè vale per tutti gli uomini non solo per me per tutti cioè se dal principio soggettivo dell'azione questa cosa mi diventa principio oggettivo dell'azione cioè vale per tutti quindi in tal senso è interessante perché dagli antichi greci si è arrivati poi a Kant in un percorso molto interessante che ci fa capire come dal tema anche di stampo cosmologico si è passati poi a un tema quindi geocentrico al tema cosmologico di stampo egliocentrico per poi anche passare a Kant la sua linea guida sul tema della morale e quindi sul fatto che comunque la metafisica a un certo punto è stata distaccata dalla fisica e la fisica non è più stata fatta diventare metafisica o non è più stata concebita come tale ciao